Era irreperibile da quando nel novembre 2021 era evaso dalla misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto ma i carabinieri della compagnia di Pozzuoli non hanno mai smesso di cercarlo e questa mattina alle 6 lo hanno arrestato. A finire in manette il 32enne del rione Traiano Arturo Equabile, l'uomo era evaso dagli arresti domiciliari e la corte di appello di Napoli aveva emesso poco dopo un provvedimento definitivo nei suoi confronti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Da quasi un anno i carabinieri lo stavano cercando con diversi appostamenti e pedinamenti alla sua compagna e questa mattina poco prima del miracolo di San Gennaro sono scattate le manette. Il covo è stato individuato all'interno del residence village a Giuliano in campagna dove l'uomo risiedeva sotto falso nome. Arrestata anche la compagna della titante una 32enne incensurata putiolana risponderà del reato di procurata in osservanza di pena. Per gli arrestati ora due destini diversi. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Secondigliano dove dovrà scontare due anni, 5 mesi e 14 giorni di pena mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Durante l'operazione i carabinieri erano invenuto e sequestrato nell'auto che il 32enne utilizzava per spostarsi una pistola a scacciacani e due caschi da moto.